Giussi Parolino, atleta di grande talento e orgoglio per Agrigento, ha raggiunto un nuovo traguardo straordinario ai campionati italiani. Con determinazione e impegno ha conquistato la medaglia d'oro e il quindicesimo titolo di campionessa italiana nella sua disciplina. La sua brillante performance ha reso la città di Agrigento estremamente orgogliosa. Giussi Parolino nella sua carriera vanta la conquista di oltre 200 medaglie d'oro a livello nazionale e regionale. Giussi Parolino è sicuramente l'atleta dei record nel lancio del Giavellotto e tesserata per la ASD Milone Siracusa. Lei con l'attrezzo assoluto del Giavellotto è riuscita ad ottenere un palmares appunto dal record. La sua determinazione ed edizione, fatica su fatica, l'hanno portata a collezionare questi risultati a dir poco prestigiosi. Prestazioni di valore che non sempre hanno avuto la giusta considerazione nel settore dell'atletica siciliana. Poi anche qualche infortunio ne hanno frenato pure la partecipazione a certi eventi, ma Giussi Parolino, tra lavoro e la sua passione per l'atletica, è sempre riuscita a raggiungere i suoi obiettivi perché il duro lavoro alla fine paga. Ora il prossimo appuntamento, la finale nazionale del CDS dal 14 al 16 luglio. Il consigliere comunale Angelo Vaccarello, consapevole dell'importanza di questo risultato straordinario, ha deciso di portare la questione in conferenza dei capigruppo. La città di Agrigento si unisce per celebrare questo importante successo sportivo e per rendere omaggio all'impegno e alla determinazione di Giussi Parolino. Il suo risultato rappresenta un esempio per tutti i giovani atleti agrigentini, dimostrando che con passione e impegno si possono raggiungere traguardi straordinari. La comunità è gratificata dal suo successo e continuerà a sostenerla nel suo percorso sportivo, augurandole ulteriori vittorie e soddisfazioni.